Capitolo 12 andando contro corrente Abbiamo il fucile pieno allora andiamo a prendere il moto schifo Ecco il moto schifo Ovviamente c'è ancora da sparare però Tu vado Buon mi butto di qua Anche perché contro corrente vorrebbe dire andare qua per forza Questi bastardi Ok Dai che ce la fai Nathan su Aha Tanto compariranno anche nemici adesso sicuro Oh Andava di là il barile no? Ovviamente Tripletta Non ancora Raga non Non lasciate Tendetevi le cose Con la dovuta calma Ok Però se si avvicinano esplodono tutti uno dietro l'altro Il che non è male come cosa Però è vero che rischiate tantissimo Vabbè ho rischiato invece Eeeh Bene Se l'ortate È finita Ma non ricarica mai Comunque anche lo zoom un po' vi frega Ok Buono Vediamo a quale castello casolare torre abbandonate andremo eh Oh nemici Aspetta Aspetta Via 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 Però con sta pistola che non ci sono più razzi raga Eeeh Diventa un po' complicato eh Eeeh Non vorrei fare il suo cielo della situazione ma Qua diventa tosto Vieni qua bastardo Sto morendo di caldo Ok andiamo avanti Vieni qua bastardo là Girati girati Ma perché devo usare il quadrato Per fare l'etro marcia Non c'ha senso Raga non c'ha senso usare il quadrato Ma per un cazzo proprio E devo avvicinare Se no non li prenderò mai Non posso neanche scendere Fantastico Ok next Eeeh Morto forse E dammi tempo Ti ho detto Sicuramente spara meglio Di altre armi che abbiamo provato Recentemente Recentemente Però Potevano anche mettere di nuovo la pistola Con i razzi E a me schifo non faceva Che poi non ricordo mai il nome Ma vabbè Dai 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 Ok Per l'amor di dio Non vorrei tipo Affrontare una rapida Al contrario E tornarmi lì Il barile Senza possibilità Di colpirlo Ok Che cazzo è? No è quello col Con i razzi Dove averli io i razzi Non lui Che culo Stavo per esplodere malissimo Comunque lo sapevo Che mi si è trovato Prima o poi Faccia a faccia Con Un bel barilozzo Su Ok Qua sicuramente c'è qualcuno Aspetta Tanto No No Lo spazio aperto Quanto odio gli spazi aperti Ragazzi Fammi girare sotto Ma Non serve Non serve Non serve E cominciamo da capo Vai Cheat Ok Fuori Questa Era molto importante Dov'è? Non l'avevo ancora ammazzato? Adesso si Ah Il razzettone Eccolo qua Il razzettone Morto il razzettone Andiamo avanti Sopra Dentro la grotta E penso che siamo arrivati Ragazzi Tra poi siamo alla sorgente Invece no Qua ci saranno altri bastardi sicuro E invece per ora no Però Io credo che siamo arrivati Sarà qua il porticciolo E allora saliremo E allora saliremo E allora saliremo